Buongiorno, mi chiamo Marco Boscato, 18 anni, sono nato a Casale Monferrato e vivo con la mia famiglia a Valenza in provincia di Alessandria. Ho conosciuto il gruppo ST tramite internet e successivamente ho partecipato a diversi casting organizzati dal gruppo ST e tramite questi casting ho avuto modo di entrare a far parte della scuola di recitazione organizzato sempre dall'agenzia. I corsi di recitazione si sono rivelati molto utili, io inizialmente avevo chiesto di ottenere una maggiore coscienza artistica, di migliorarmi tecnicamente a livello attoriale e sono stato pienamente soddisfatto. Inoltre con il gruppo ST ho avuto modo di, come ho detto prima, partecipare a diversi casting e a lavorare anche all'interno di uno studio televisivo. Ho fatto lo steward per X Factor e ho avuto modo di partecipare anche ad alcuni videoclip musicali presso Milano e sono state delle esperienze bellissime, io mi sono trovato molto bene e posso dire di essere soddisfatto del percorso che sto facendo, di continuare a studiare e a migliorarmi. L'importante non è quanto vai piano, l'importante è non fermarsi mai e io continuerò ad andare avanti.